buongiorno ragazzi eccoci qui nella splendida samedan insomma se moritz per il winter snow training del gruppo fca c'è tanto da provare ci divertiremo sicuramente questo lavoro mi distrugge ed eccoci che adesso siamo qui con la giulia non ci siamo sui segni non 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 è una leggenda la neanche a sfida del motorismo ragazzi, finalmente quella guidiamo noi wow, sta che quadricione è tutta per me un po' di cuore ha vinto con la Sergio siamo arrivati a fine giornata hanno finalmente tolto i coni questa avventura finisce qui e torno in ufficio dai anche perché oggi comunque è sempre lavoro ciao a tutti ciao a tutti